Eccoci qui Radio Monte Carlo come annunciato oggi è giovedì questa sera alle 21.10 su Sky 1 HD la nuova puntata di Masterchef numero 5 la sesta puntata due episodi come sempre siamo a metà del nostro cammino e ospite come oggi Carlo Cracco che quest'anno non si era fatto ancora a vedere ciao Carlo bentornato a Radio Monte Carlo nel senso che non ti avevamo ancora visto a proposito di moto beh avremo a che fare in questa puntata anche con le moto ma con ordine che cosa succederà questa sera allora i giudici in competizione con Valentino Rossi per cui chi arriva per primo non cucina tutti gli altri devono cucinare secondo te chi arriva per primo tu no Valentino ah no pensavo tra i giudici scusa pensavo tra i giudici magari forse ce la faccio ma non con quelle moto lì forse ma chissà con quelle moto lì anche ce l'hai una moto tu quindi sei anche motociclista è che è un po' è un po' pericoloso è pericoloso è pericoloso e lasciamo fare a Valentino tu hai anticipato quello che è il secondo episodio quindi della prova in esterna ci sarà questa trasferta nel motor rancho di Valentino Rossi che sappiamo ha questo team tra l'altro Sky Racing Team VR46 ci sono un sacco di giovani promesse del motociclismo e quindi si cucinerà in esterna per questi ragazzi assisteremo a una sessione di prove di gare e dopodiché i nostri bravissimi concorrenti dovranno preparare una griglia dovranno una carne alla griglia ovviamente mangiare dei piloti abbastanza semplici in questo caso nel senso che bruciano tantissimo hanno voglia di mangiare cose molto importanti sostanziose sostanziose per cui ci sarà un insate di fagioli una bruschetta pomodoro e poi tantissima carne tantissima carne e questo per quanto riguarda la prova in esterna invece nel primo episodio primo episodio cosa abbiamo secondo te dopo tanta anzi dopo arriverà la gioia perché con Valentino è solamente prima della gioia prima della gioia cosa c'è l'incubo l'incubo bravo che non è cucine da incubo di Antonino no ma 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 Iginio Massari che massacra tutti è l'abitue ormai di di Massa cioè tutti gli anni il nostro non nostro l'incubo dei concorrenti l'incubo dei concorrenti e quindi lì ci sarà anche da impiattare diciamo in un certo modo una prova molto sempre molto difficile perché la pasticceria è precisione scienza fantascienza c'è un po' di tutto fisica metafisica chimica insomma scomodiamo tutte le materie va però comunque forse la prova una tra le prove più difficili sempre va bene carlo allora diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a questa sera 21 e 10 sky 1 hd per la sesta puntata di master 1 e 10 hd sky 1 poi ben dimenticato qualcosa no carlo cracco antonio cannavacciola o bruno barbieri giovastiani c'è i 14 concorrenti rimasti buona visione eh beh anche tu sei bravo anzi devo ancora venire al tuo ristorante non ho ancora fatto ecco lì grave cercavo l'invito in diretta ok va bene a quel pezzo lì magari no no grazie carlo cracco grazie a te ciao